Previsioni meteo per martedì 22 luglio. Al nord, residua instabilità al nord-est con fenomeni in assorbimento dalla serata, meglio invece al nord-ovest. Al centro, tempo instabile sulle Adriatiche, dal pomeriggio un po' ovunque, migliora poi in serata con ampi rasserenamenti. Al sud, residua instabilità sul basso versante tirrenico, più soleggiato altrove. Venti prevalentemente deboli, mari generalmente molto mossi, temperature stazionari al nord e al centro in diminuzione al sud.